Pioggia di avvisi di pagamento per i soci delle cooperative per l'edilizia popolare a Ruvo di Puglia relativamente ai comparti MC obbligati da una sentenza a rendere al comune le indennità di esproprio. L'ente a distanza di mesi della proposta di dilazione dei pagamenti in 20 anni senza interessi in virtù di un particolare prestito da parte della Cassa Depositi e Prestiti, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha intimato la riscossione dei pagamenti attraverso i decreti ingiuntivi. Una batosta per i soci delle cooperative chiamati a versare entro 30 giorni decine di migliaia di euro. Da Palazzo di Città fanno sapere che si tratta di atti dovuti e che il comune di Ruvo continuerà ad avere un approccio di massima apertura rispetto alle riscossioni degli importi che i soci delle cooperative sono tenuti a versare. Tutti i riscontri che abbiamo raccolto finora rafforzano la convinzione che non ci sia altra possibilità per garantire la stabilità finanziaria dell'ente e la speranza di una soluzione definitiva della questione, ha spiegato il sindaco di Ruvo Vito Tombrini dopo l'incontro con il prefetto Antonio Nunziante. Restiamo convinti, ha aggiunto, che su questo tema tanto delicato quanto complesso sia necessario ricercare soluzioni condivise e invitare tutti i soggetti interessati ad agire con maturità per avviare questa vicenda verso un esito positivo. Grazie a tutti.